Io sento ormai parlare sistematicamente, sento dire in televisione da opinionisti anche rispettabili è il bilancio che c'era in precedenza dello Stato che non riportava, fin da prima non riportava ora siccome sono una persona seria e ovviamente monitoro i risultati di quello che produco io il prezzo della benzina lo sto monitorando il prezzo medio della scorsa settimana della benzina in Italia era 1,812 euro il 20 maggio 2022 noi avevamo la benzina a 1,88 euro più alto del prezzo medio in ultima settimana il 27 giugno dello scorso anno noi avevamo il prezzo medio della benzina a 2,73 euro il 18 luglio a 1,98 euro prezzo medio il primo agosto a 1,877 euro nell'ultima settimana la media era 1,812 euro allora posso anche capire che si consideri questo prezzo alto che lo si consideri magari fuori controllo